Una rivista francese ha messo in dubbio se Meghan Markle sia tirannica in seguito alle affermazioni che un rapporto del palazzo sulle accuse di aver maltrattato il personale è stato sepolto, la rivista Gala ha pubblicato un articolo dal titolo, La tirannica Meghan Markle. Queste travolgenti scoperte che non saranno mai rivelate. Viene dopo i rapporti secondo cui i risultati di un'indagine sulle accuse di prepotenza della duchessa del Sussex sul personale reale, che lei nega, non saranno mai pubblicati. Secondo il Sunday Times, Buckingham Palace non prevede più di rilasciare una dichiarazione pubblica sull'inchiesta. Punto. Tuttavia, le modifiche alle politiche delle risorse umane della Royal Auseel da seguito dell'indagine dovrebbero essere pubblicate nel rapporto annuale Sovereign Grant. Secondo quanto riferito, la mossa avrebbe lo scopo di limitare le tensioni tra i Sussex e i reali. Gli avvocati di Meghan hanno precedentemente bollato le accuse di bullismo, riportate per la prima volta nel marzo 2021, come una campagna diffamatoria calcolata prima dell'intervista a lei e al principe Harry Conopra Winfrey. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.